Il sabato in diretta su Fano TV presentiamo un momento molto importante che sono i primi 100 giorni del nostro mandato. Sicuramente sono stati 100 giorni molto intensi con tante cose fatte e rispettate ma con altre tante sfide da portare avanti. Quindi siamo riusciti a presentarla e riaprire in maniera veramente eccezionale San Pietro in Valle che è una delle chiese barocche più importanti delle Marche e del centro Italia ed è una bellezza che dobbiamo assolutamente riaprire tutti i giorni. E questo è l'impegno che ci prendiamo come riapriremo da lunedì San Francesco tutti i giorni perché non è possibile vedere turisti che si fermano e non possono entrare negli angoli della cultura della nostra città. Sabato presenteremo tutte le iniziative fatte in questi primi 100 giorni quindi invito tutti quanti a seguire Fano TV e ai passanti di passare a San Pietro in Valle perché sicuramente sarà un colpo d'occhio fantastico. Grazie.